siamo in un villaggio vacanze una coppia di romani si conosce con una coppia di milanese stanno tutto il giorno a parlare e mo c'è sta il marito della milanese che dà gli che fa il coatto tutto il giorno fa beh noi a milano corriamo corriamo lavoriamo tutto il giorno siamo veramente una società all'avanguardia e romano zitto noi facciamo di qua noi facciamo di là a certo punto il milanese proprio esagera e fa così voi giù al sud non avete proprio voglia di lavorare per esempio se a noi ci porti un pezzo d'acciaio noi tu costruiamo un transatlantico e romano dopo un po' tu guarda che fa così senti se a me mi mani tu sorella ne faccio tutto e qui faccio